I carabinieri del nucleo operativo di Gela, in provincia di Caltanissetta, hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di due ragazzi minori indagati per atti di bullismo. Gli episodi risalgono alla scorsa estate e riguardano una serie di comportamenti nei confronti di un altro minore, vittima di vessazione a cui fu sottratto anche un cellulare. Il tutto è scaturito da una segnalazione al 112, al primo intervento dei militari in difesa del minore e alla successiva attività di indagine condotta dal nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Gela e coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta. L'attività investigativa ha consentito di identificare gli indagati per i quali il giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha disposto alla misura cautelare della permanenza in casa.